Si stava filmando anche che era stato un onore a Rugolotto. Non può essere altrimenti. Una bella iniziativa la vostra del camper che avete lanciato questo messaggio per far salutare degnamente Hernan Crespo che dunque va a far l'indiano. Abbiamo fatto questo sondaggio sulla nostra pagina Facebook perché i messaggi dei nostri ascoltatori erano indirizzati tutti a quello, perché quando hanno sabuto che credo che l'Expo era in procinto di partire per l'India, tutti i siti ne parlano. Chiedevano informazioni, poi durante il programma sono state date, quindi poi subito hanno iniziato a chiedere, anzi a dire grazie, a segnalare che un ringraziamento non sarebbe affatto cosa strana. Noi mentre eravamo qua abbiamo pensato di lanciare questo sondaggio e devo dire che è stata abbastanza un plebiscito, poi Sandro in studio diceva che forse era difficile, capisco che la logistica probabilmente è difficile, anche i tempi forse sono troppo stretti. Ma non si sapeva già da un po' che probabilmente… però i tempi poi burocratici, ufficiali, chiamiamoli come vogliamo, però insomma almeno i nostri spettatori, insomma i nostri fan su Facebook, insomma il plebiscito è scontato, è stato scontato. E anche perché dopo poi che abbiamo visto anche il gol definitivo, abbiamo parlato di Cresco e sappiamo chi è, alla fine era anche un po' scontato che tutti facessero, tutti dicessero la loro e la loro era positivamente verso un saluto per domani sei. Un giro di campo. Ecco il giro di campo sarebbe il saluto ideale, arriva anche a questo punto. Beh qualcuno sì, diceva che era la cosa più bella diciamo, perché poi alla fine secondo me… Anche nei messaggi si esce telefonici, però comunque sostanzialmente l'importanza di un saluto è quella che ha accomunato tutti, poi sì, soprattutto quello insomma il giro di campo che si è già visto in altri casi, magari sempre in Serie A, è l'unico e sembra quello più possibile magari. No, bene, grazie.